3, 2, 1, via, 55 secondi di disposizione, forza, forza, vai ragazzi, 8, 10 secondi, sta arrivando il quinto uomo, guardate la velocità, guardate ragazzi, si liberavano stanchi ma non ha messo la risolva, 20 secondi, ma che di sentire, forza, forza, 25, 30 secondi, 35, forza, forza, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, e attimo, 50 secondi i campioni italiani, anche questa sera si sono mostrati i migliori, grande performance, complimenti.